Pace a rischio tra le due Coree e in reazione alle nuove sanzioni ONU, Pyongyang ha cancellato il trattato di non-aggressione, ha chiuso la linea telefonica diretta con Seoul e minaccia persino di stracciare l'armistizio in vigore dalla guerra del 1950-53. In visita alle truppe impegnate in controverse esercitazioni al confine, il leader nordcoreano Kim Jong-un si è detto pronto a una guerra totale ad attacchi nucleari preventivi. Immediata la reazione della Corea del Sud. Se la Corea del Nord attacca la Corea del Sud con il nucleare, il regime di Kim Jong-un sarà estirpato dalla terra per volontà degli uomini e della Corea del Sud. A dare fuoco alle polveri tra le due Coree e le sanzioni decise dal Consiglio di sicurezza ONU come risposta al terzo test nucleare effettuato dalla Corea del Nord il 12 febbraio scorso.